Nel Paese del Cuscus una mostra di couscousiere realizzate per l'occasione dei maestri ceramisti di Caltagirone e Santo Stefano di Camastra arricchirà i dieci giorni dedicati alla tradizionale pietanza mediterranea che a San Vitolo Capo è diventata il piatto della pace. L'iniziativa di Patrizia Spagnolo e le couscousiere saranno esposte in un locale di Via Farini a San Vitolo Capo dal 18 al 27 di settembre in concomitanza con il Cuscus Fest. Le pregevoli opere sono state realizzate in esclusiva per Patrizia Spagnolo. Gli artigiani ceramisti hanno interpretato in modo originale e personale la speciale pentola dove si cucina il couscous assegnando le forme e colori diversi. Alcune delle couscousiere esposte sono state recuperate nei mercati di Nabul, Karouan, Sous in Tunisia e Fes in Marocco. Messa appunto l'attività organizzativa della gara automobilistica in programma per domenica prossima sul Monte Bonifato ad Alcame. In previsione un'ottantina di auto sul circuito della Funtanazza. Il servizio. Macchina organizzativa in funzione per la prima edizione Speed Slalom Show sul Monte Bonifato che si svolgerà domenica prossima lungo i tornanti che portano allo spiazzale della Funtanazza. La manifestazione automobilistica per uno sport che in città è seguito da migliaia di appassionati e organizzata dalla scuderia Spidicarri preseduta da Pietrodattolo. Si prevede che saranno un'ottantina le auto in gara e per il primo posto assoluto tra i favoriti l'alcamese Diego Blunda. La partenza domenica alle 9, subito dopo il primo tornante, il traguardo a pochi centinaia di metri dalla Funtanazza per poter consentire la decelerazione. Le verifiche tecniche si svolgeranno a partire dalle 15 nello spiazzale della Funtanazza. Le verifiche sono in programma per sabato. Le gare domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 fino alla conclusione. Quattro le manci in programma. La lunghezza del percorso è di tre chilometri. C'è attesa tra gli appassionati e nonno per questa gara. Ricordiamo che la prima edizione della cronoscalata venne effettuata nel 1964. E non ci sono più notizie dell'ultima ora. L'informazione di Alpa 1 si chiude qui. Come sempre grazie per l'ascolto e a risentirci per i prossimi appuntamenti, sempre sintonizzati sulla nostra emittente. A risentirci. A risentirci. Grazie a tutti.